Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Bentornati al consueto appuntamento con Promoserio Eventi. Andiamo subito a scoprire le manifestazioni dal 26 marzo al 1 aprile. Venerdì 28 marzo, le ore 20 e 30, Gandino ripropone con grande successo la lirica al Teatro Loverini. L'opera di quest'anno è la Bohème, opera in quattro quadri musicata dal grande compositore lucchese dell'Ottocento Giacomo Puccini. Il soprano Clara Bertella ed il tenore Edoardo Francesconi accompagnano il pubblico nella Parigi del primo Ottocento, con musiche rigorosamente dal vivo per la regia di Sandro Corti. Ingresso unico 10 euro. Torna la rassegna al Bino Classica. Inaugurazione del Festival domenica 30 marzo in auditorium per un pomeriggio dedicato alla produzione della casa discografica Tactus. Il 5 aprile concerto inaugurale dell'orchestra Carlo Antonio Marino presso la parrocchiale di San Giuliano. Altri eventi dedicati invece allo sport saranno sabato 29 e domenica 30 marzo a Clusone, due giorni di Orienteering. L'evento inizierà nel pomeriggio di sabato con una gara nel centro storico di Clusone, per poi proseguire la domenica mattina, quando la competizione si sposterà nella pineta di Clusone per la prima prova di Coppa Italia Middle. Le strutture ricettive del consorzio Astra offrono pacchetti vacanza per tutti gli iscritti. Domenica 30 marzo, terza edizione della mezza maratona in Val Seriana, denominata Mezza sul Serio. Il ritrovo è fissato a Fiorano al Serio in via Roma alle ore 7.30. Il percorso su strada si snoda nei comuni di Fiorano al Serio, Vertova, Colzate, Cene e Gazzaniga, per un totale di 21 chilometri. All'interno della manifestazione, seconda edizione della gara 10.000 sul Serio, 10 chilometri di corsa lungo lo stesso percorso. Sempre il 30 marzo, a Gandino, l'imperdibile Fiera di San Giuseppe, aspettando Expo 2015. Alla tradizionale invasione di bancarelle, che si disporranno per tutto il giorno nel centro storico, si unisce quest'anno il mercato agricolo di prodotti a chilometro zero, posto nel Parco Comunale Verdi. Evidenza particolare al mais spinato di Gandino, eccellenza rinomata, che verrà utilizzata in una serie di prodotti e di piatti tipici da gustare nei locali del paese. Passiamo ora alle visite guidate ai laboratori per il prossimo weekend. 29 marzo, a Clusone, prosegue l'iniziativa Restauro a Porte Aperte al MAT, con un doppio appuntamento alle ore 16. Per gli adulti, visita guidata al restauro della tela La Visitazione di Maria, proveniente da Gorno, del pittore Enrico Albricci. Per i bambini, un laboratorio didattico, entrambi presso il Museo Arte e Tempo di Clusone in via Clara Maffei. Il 30 marzo, a Dardesio, laboratorio didattico per bambini, Storia al Focolare, presso il Museo Etnografico di Piazza Montegrappa. Un pomeriggio per riascoltare e riassaporare favole e racconti popolari d'altri tempi e inventarne di nuove tutti insieme. Per finire, tè e biscotti per tutti. Passiamo ora alla consueta notizia dall'ufficio Promoserio. Promoserio continua la promozione delle nostre valli presso l'aeroporto di Orio Alserio grazie a SpotCube. Si tratta di un infopoint multimediale interattivo composto da quattro maxi schermi touchscreen posizionato in punti strategici di forte passaggio e in grado di offrire servizi e informazioni agli utenti in transito. Anche la Val Seriana e la Val di Scalve sono presenti sul cube dell'aeroporto di Orio posizionato nell'area delle partenze internazionali per far sì che i turisti in attesa possano scoprire le bellezze del nostro territorio e decidere di trascorrervi le vacanze. Nel 2013 lo spot dedicato alle nostre valli ha superato le 5.000 interazioni con un 30% degli utenti di nazionalità russa. E con questa notizia concludiamo il nostro appuntamento Arrivederci alla prossima settimana.